il fatto che tu sei italiana e che quindi c'è anche la ferrari all'interno del del gran premio e gli altri che devi intervistare hanno paura ogni tanto che tu possa essere di parte beh come la ferrari è la nostra nazionale esatto e come se quindi lo sanno già ci prendono anche un po in giro a volte dicono a ferrari tv cioè scherzano ferrari tv è bella perché sai sei italiano e comunque la ferrari è l'italia chiaro o l'italia è la ferrari non so dipende da che punto di vista tu la guardi però è un brand così valoriale cioè porta le aspettative anche di un paese intero che è ovvio che quando tu racconti un gran premio all'interno del circus devi comunque essere obiettivo in tutto quello che succede e questo credo non ci sia mai mancato però la bellezza di essere italiani e avere quel brand lì è per forza di cose